Scusa, io voglio dire una cosa. Si vende un po' tutto. Vendo un po' tutto. Signora, lei è anche laureata, quindi non appartiene alla categoria degli alfabeti funzionali. In economia per giunta, quindi sa. No, voglio dire, quindi capisce il mondo e capisce le frasi subordinate. Ora io mi domando, ma riuscire a dire ridendo, io vendo tutto di me, ma com'è possibile accettare... Vabbè, io non farei una questione. Non vengoci a voi. È una questione di dignità. Non farei una questione di dignità. Perché, scusa, voglio chiudere il ragionamento. Però, scusi, io attaccherei chi vande le tasse. Cioè, non peggere chi vande le tasse e chi decide di vendere il proprio corpo. Fammi finire, no, scusa, Davide, fammi finire il ragionamento, perché lo chiudo rapidamente. Ho usato questo spunto per dire questo. Nel nostro paese esiste una mentalità che premia chi è furbo a fare i soldi con qualunque sistema. Con questo tipo di mentalità. Lei le fa legalmente. Che è brava, meno male, è bravissima. Io voglio dire... Lei si spoglia con i suoi followers. Ora cambiamo la mentalità e cominciamo a dire che la signora non è coinvolta perché paga le tasse e fa quello che vuole del suo corpo. Sono assolutamente contenta. Esatto, esatto. Però, quello che intendo dire io è che è un caso in cui si vede come la nostra mentalità premia il furbo. Ora, in realtà, noi dovremmo premiare il responsabile e chi ha il senso della comunità. Non il furbo. Giulia Leopardi, mi scusi, ho un'altra domanda da farle. La cosa interessante, intanto grazie perché accetta di raccontarlo anche in televisione. Lei dice, vabbè, lavora sulla piattaforma, però lei è conosciuta da chi, in qualche modo, compra le cose che lei vende. Posso usare il termine vende, vero? Non si offende se dico che lei vende... Sì, sì, assolutamente. Lei vende i suoi contenuti, vende parte del suo corpo, no? Facendo cose... Delle immagini. Delle immagini. Vende un servizio. Vende un servizio, benissimo. Lei ha una partita IVA ed è inquadrata come altre arti e letterature. A me questo mi manda i matti, questo. Altre arti... Anche a me, sinceramente. Arti espersive. Altre arti e letterature. Che letterature fa lei, dottoressa? Legge dei brani. Io penso che questa definizione sia abbastanza ridicola perché non definisce in maniera specifica il mio lavoro. Lei cosa vorrebbe? Io mi reputo una sex worker. Una sex worker, benissimo. Quindi vorrei che ci fosse, in questo inquadramento, lavoratrice del sesso. Facciamolo e spiegare.